pace bene a tutti i nostri telespettatori i titoli di questa edizione del nostro telegiornale il papa apre i lavori del sinodo parlate con chiarezza ascoltate con umiltà di fronte alle persecuzioni anticristiane la chiesa non può rimanere in silenzio nel giorno di san francesco il cardinale di stato parolin chiede l'intercessione del santo per la pace nella regione isis il nunzio in irak l'ideologia jihadista non si ferma con le bombe monsignor lingua alla radio vaticana le idee che sono alla radice di questa aggressione si possono arrestare solo con l'educazione tentativo di screditare i vescovi congolesi per la loro opposizione alla revisione costituzionale ha sfidato tanti e ha sempre vinto ma dio ha avuto la meglio su di lui baronchelli la vittoria più bella è la conversione chiuderemo con notizie di casa nostra il papa apre il sinodo parlate con chiarezza ascoltate con umiltà durante il suo breve intervento il 6 settembre scorso papa francesco ricorda i padri sinodali gli atteggiamenti necessari per esercitare la sinodalità per il bene della chiesa e della famiglia aprendo i lavori della prima congregazione generale del sinodo straordinario papa francesco ha spiegato ai padri sinodali gli atteggiamenti giusti per esercitare quella sinodalità utile ad intraprendere un cammino comune nel suo breve intervento il pontefice ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato con dedizione pazienza e competenza per lunghi mesi sui temi e i testi della grande assise vaticana leggendoli valutandoli ed elaborandoli a tutti i presenti poi cardinali patriarchi vescovi sacerdoti religiosi e religiose laici e laiche ha ricordato voi portate la voce delle chiese particolari radunate a livello di chiese locali mediante le conferenze episcopali una voce che dovrete portare in sinodalità afferma il papa evidenziando che è una grande responsabilità portare le realtà e le problematiche delle chiese per aiutarle a camminare su quella via che è il vangelo della famiglia condizione generale di ciò è parlare chiaro nessuno a monito francesco dica questo non si può dire penserà di me così o così bisogna dire tutto ciò che si sente con parresia per evitare che si ripetano casi come quelli dell'ultimo concistoro del febbraio 2013 dopo il quale ha rivelato il vescovo di roma un cardinale mi ha scritto peccato che alcuni cardinali non hanno avuto il coraggio di dire alcune cose per rispetto del papa ritenendo forse che il papa pensasse qualcosa di diverso questo non va bene questa non è sinodalità perché bisogna dire tutto quello che nel signore si sente di dover dire senza rispetto umano senza pavidità e al tempo stesso ha aggiunto il pontefice si deve ascoltare con umiltà e accogliere con cuore aperto quello che dicono i fratelli e con questi due atteggiamenti quindi che si esercita quello spirito di collegialità e sinodalità necessario per il bene della chiesa e della famiglia uno spirito che il santo padre ha voluto che fosse presente anche nell'elezione del relatore il cardinal peter ordo del segretario generale monsignor bruno forte e dei presidenti delegati i cardinali antré ventrois arcivescovo di parigi luis antonio tagle arcivescovo di manila raimundo damaseno assis arcivescovo di aparecida i primi due spiega bergoglio sono stati eletti direttamente dal consiglio post sinodale eletto anch'esso dai partecipanti dell'ultimo sinodo invece siccome i presidenti delegati devono essere scelti dal papa ho chiesto allo stesso consiglio post sinodale di proporre dei nomi ed io ho nominato coloro che il consiglio mi ha proposto dunque parlare con parresia e ascoltare con umiltà queste le due chiavi per affrontare questo tanto discusso sinodo straordinario e fatelo con tanta tranquillità e pace ha concluso il santo padre perché il sinodo si svolge sempre con petro e sub petro e la presenza del papa è garanzia per tutti e custodia della fede di fronte alle persecuzioni anticristiane la chiesa non può rimanere in silenzio nel giorno di san francesco celebrando la messa a conclusione dell'incontro con i nunzi del medio oriente il cardinale parolin chiede l'intercessione del santo per la pace nella regione è iniziata e si è conclusa nel segno di san francesco l'omelia del cardinale segretario di stato pietro parolin durante la santa messa nella cappella paolina a conclusione dell'incontro dei nunzi apostolici in medio oriente con papa francesco e con i massimi rappresentanti della santa sede il santo patrono d'italia ha affermato parolin ci testimonia la via della carità dell'umiltà e della povertà come strade privilegiate per diventare veramente nuove creature in grado di comprendere e porre in atto la volontà del padre e giungere alla salvezza francesco ci insegna inoltre le ragioni il coraggio e la pazienza del dialogo anche con i più lontani perché toccati dalla purezza delle nostre intenzioni possano ravedersi ed esistere dai loro progetti di violenza e di soprafazione chiarissimo quindi il richiamo alla realtà del medio oriente e alle crescenti minacce alla pace e all'incolumità delle comunità cristiane che vivono nei territori medio orientali fin dai tempi apostolici si ritrovano ora ad affrontare situazioni di grave pericolo e di aperta persecuzione e sono spesso costretti ad abbandonare tutto e a fuggire dalle loro abitazioni e dal loro paese in quei territori si rivelano persistenti attive le forze del male e in alcune menti corrotte si è fatta strada la convinzione che la violenza e il terrore siano metodi di cui potersi servire per imporre agli altri la propria volontà di potenza dissimulata addirittura sotto la pretesa di affermare una determinata concezione religiosa questa concezione è chiaramente un pervertimento dell'autentico senso religioso con esiti drammatici e a cui è necessario rispondere ha detto il porporato la chiesa non può rimanere in silenzio di fronte alle persecuzioni sofferte dai suoi figli e la comunità internazionale non può rimanere neutrale tra gli aggrediti e l'aggressore tuttavia la letizia non viene mai meno neppure nelle tribolazioni e nei pericoli perché si fonda in dio che sta preparando un futuro definitivo di gioia le forze del male dunque non prevarranno e questa certezza che ci rallegra lungi da lasciarci inoperosi o inerti spettatori ci sprona come singoli e come comunità cristiana come chiesa alla preghiera costante e fiduciosa e a porre in atto tutte quelle iniziative concrete che servano a sensibilizzare i governi e l'opinione pubblica qualunque atto utile per fermare i violenti e soccorrere i nostri fratelli nella prova non va tralasciato ha detto il cardinal parolin i cristiani perseguitati aggiunto e tutti coloro che soffrono ingiustamente devono poter riconoscere nella chiesa l'istituzione che li difende che prega ed agisce per loro che non teme di affermare la verità divenendo parola per chi non ha voce difesa e sostegno di chi è abbandonato profugo discriminato il nunzio in iraq afferma l'ideologia jihadista non si ferma con le bombe monsignor lingua alla radio vaticana le idee che sono alla radice di questa aggressione si possono arrestare solo con l'educazione per quanto riguarda gli interventi della comunità internazionale io credo che vada tenuto presente che il problema alla radice non si può risolvere con la forza perché le bombe l'esercito possono fermare un'aggressione ma non possono fermare le idee e quanto afferma ai microfoni di radio vaticana il nunzio apostolico in iraq monsignor giorgio lingua parlando delle operazioni per fermare l'avanzata dei jihadisti dello stato islamico credo quindi che le idee le ideologie che stanno dietro si possano fermare soltanto con l'educazione sottolinea per questo credo sia molto importante a questo livello il ruolo dei leader religiosi musulmani per condannare quello che sta avvenendo per prendere le distanze e soprattutto per formare nelle scuole nelle moschee la gente ad una maggiore tolleranza la situazione è molto preoccupante innanzitutto dal punto di vista psicologico dopo quello che è successo a musul in particolare ma anche nella piana di ninive dove i cristiani sono stati costretti praticamente a lasciare le loro abitazioni e a convertirsi in questo momento sono disorientati perché non possono ritornare nelle loro case più il tempo passa e più la frustrazione cresce questo direi per quanto riguarda i circa 120 mila cristiani che hanno dovuto lasciare le loro case per quanto riguarda bagdad prosegue la situazione è come prima è sempre una città con problemi con attentati ma non è peggiorata circa 350 famiglie sono venuti a bagdad dal nord perché molte avevano dei parenti oppure per fare documenti passaporti credo quindi sia importante intervenire aggiunge il nunzio per trovare loro condizioni migliori di vita e possibilmente anche un lavoro se si vuole che restino altrimenti è chiaro che non possono più vivere a lungo in queste condizioni e saranno sempre più tentati di partire e di lasciare il medio oriente quindi si svuota di una presenza che è millenaria e dall'inizio del cristianesimo che i cristiani sono lì e sono parte del paese hanno contribuito alla costruzione di questi paesi e ora si trovano in una condizione molto critica è chiaro che ci aspettiamo la pace dice ancora monsignor lingua ci aspettiamo che i cristiani e i musulmani e anche i musulmani sciiti e sunniti altre religioni presenti possano ritornare a vivere come fratelli questo è un sogno ma credo che i sogni si possano realizzare con la buona volontà di ciascuno e a proposito della forza di pace internazionale per fermare la violenza il nunzio ricorda che è quello che i cristiani chiedono anche quando i villaggi vengono liberati infatti non si fidano di tornare finché non si sentono protetti da una forza di pace internazionale conclude hanno visto la facilità con cui questi jihadisti sono avanzati sono entrati e temono allora che possano ritornare con la stessa forza quindi solo se ci sarà una forza di pace internazionale potranno tornare almeno per passare l'inverno tentativo di screditare i vescovi congolesi per la loro opposizione alla revisione costituzionale qualsiasi giovane cattolico abbia una richiesta da sottoporre alla gerarchia lo può fare utilizzando le strutture esistenti afferma una nota della conferenza episcopale della repubblica democratica del congo pervenuta all'agenzia fides in risposta al tentativo di un centinaio di giovani definitisi cattolici di consegnare all'annunziatura una petizione rivolta a papa francesco nella quale criticavano la posizione dei vescovi congolesi sulla proposta di revisione della costituzione la modifica in questione permetterebbe al capo dello stato in carica joseph kabila di presentarsi alle elezioni per ottenere un terzo mandato presidenziale secondo il quotidiano locale le far tra i giovani cattolici che si richiamano al partito del presidente e che hanno cercato di depositare la petizione presso l'annunziatura di kinshasa c'erano diversi appartenenti ad altre fedi compresi addirittura stregoni patentati insomma un insieme di avventurieri accorsi da ogni parte per tentare discreditare la chiesa cattolica sperando di opporre i vescovi congolesi a papa francesco nella sua nota la conferenza episcopale ricorda che la chiesa cattolica è ben organizzata nelle sue strutture e i suoi giovani si ritrovano nei movimenti di azione cattolica riconosciuti i vescovi sottolineano inoltre che la fedeltà al vangelo secondo papa francesco significa anche che la chiesa partecipa alla costruzione della città la partecipazione dei vescovi alla vita della nazione è un diritto inalienabile che deve essere riconosciuto a tutti i cittadini i vescovi come tutti i cittadini di questo paese hanno il diritto di esprimere il loro parere sullo stato del paese questo non si chiama fare politica conclude la nota l'eventuale modifica costituzionale che aprirebbe le porte a un terzo mandato per l'attuale presidente è stata criticata da diversi paesi come la germania il cui ambasciatore a kinshasa il 2 ottobre ha chiesto alle autorità locali di rispettare l'attuale costituzione che prevede solo due mandati presidenziali consecutivi ha sfidato tanti e ha sempre vinto ma dio ha avuto la meglio su di lui baronchelli la vittoria più bella è la conversione la vittoria più bella per me è stata la conversione se a dirlo è un ex campione di ciclismo che di vittorie se ne intende perché nella sua carriera da protagonista ha colto ben 90 successi allora gli si deve credere giambattista baronchelli tista per gli amici gb per i tifosi classe 1953 uno dei corridori italiani che ha dominato gli anni 70 e 80 oggi vive ad arzago dadda un paesino della provincia di bergamo al confine con quelle di cremona e milano sulla bici ha percorso centinaia di migliaia di chilometri in strade di tutto il mondo ma solo da pochi anni ha trovato la strada giusta e quando si trova la strada giusta bisogna non perderla più si riesce a vedere tutto nella giusta dimensione non si dà più importanza a cose che in realtà sono secondarie anche il successo nello sport che pure ha indirizzato la sua vita settimo di nove figli una famiglia di contadini papà e zii grandi appassionati del ciclismo tista ha cominciato a correre in bici a 15 anni seguendo suo fratello gaetano di un anno più vecchio all'inizio era un gioco poi è diventata una professione infatti i due fratelli fanno subito vedere di avere un talento naturale e quando arrivano fra i dilettanti fanno parlare di loro nel 1973 al mondiale di barcellona quello che tra i professionisti vede trionfare felice gimondi gaetano arriva settimo tra i dilettanti primo degli italiani e nello stesso anno giambattista vince il giro d'italia e il tour dell'avenir il giro di francia dei dilettanti una vera impresa che insieme alle tante altre vittorie ottenute lo lancia tra i professionisti a 21 anni erano gli anni in cui il belga edi merckx il cannibale era il dominatore assoluto da baronchelli ci si aspettava una risposta italiana quando ero ragazzo io tifavo per merckx poi dopo pochi anni mi son trovato a combattere con lui e nel 1974 primo anno da professionista nella squadra della chic per un pelo tista non riesce a mangiarsi il cannibale al giro d'italia disputato da grande protagonista sorprendendo tutti nel penultimo tappone dolomitico sulle tre cime di lavaredo stacca merckx e sembra poter conquistare la maglia rosa ma merckx resiste mantenendo un vantaggio in classifica di appena 12 secondi un'inezia e il giorno dopo pur attaccando baronchelli non riesce a replicare l'impresa e merckx finisce il giro con quel niente di vantaggio nella stessa stagione il belga vincerà anche tour e mondiale a ulteriore dimostrazione dell'impresa compiuta da baronchelli al giro quando ha smesso di correre è tornato al suo paese non per delusione ma per scelta della vita di corridore a me ha sempre pesato molto essere continuamente in giro per il mondo non mi piace la sera voglio tornare a casa c'è la famiglia restare nel mondo delle corse avrebbe significato essere in giro più di prima allora basta decisione già presa con largo anticipo nel 1982 sempre con gaetano avevano già messo su questo negozio di bici nel 1989 inizia a lavorarci anche tista che nel frattempo si era sposato nel 1987 e l'anno successivo aveva avuto la sua prima figlia alla fine saranno tre io i miei figli li ho visti nascere tutti queste sono le cose belle della vita vincere le corse si è bello ma la vita è più grande c'è di più c'è di più ma allora tista non aveva ancora dato un nome a quel più solo recentemente ha capito è successo quando è scomparsa mia mamma tre anni e mezzo fa lei aveva una grande fede tutte le mattine andava messa a piedi e sicuramente lei ha pregato tanto per la conversione dei suoi figli e le sue preghiere sono state esaudite con la conversione cambia tutto arriva quando deve arrivare il sì lo devi dire tu e il bello è proprio questo la tua libertà sei tu che dici sì e la vita diventa un'altra la cosa più importante è ringraziare il signore per quello che hai e lui che te l'ha dato e quando le cose non vanno è perché deve andare così per forza bisogna capirlo è un cammino che tista augura a tutti a cominciare da moglie e figli sono cattolici sì come lo ero io ma è difficile capire se non ti arriva la grazia per me la cosa più importante accaduta nella vita e la fede tutto il resto è in secondo piano quando devi prendere le decisioni devi sempre pregare e basta e il signore ti dà quello che è giusto che tu abbia notizie di casa nostra la solennità di san francesco è stata celebrata anche quest'anno nel nostro santuario la festività è stata preparata con un triduo predicato da padre roberto zaru recentemente trasferito nella nostra comunità di cagliari dopo il triduo la sera del 3 ottobre ha avuto luogo il transito del santo presieduto dal ministro provinciale padre giovanni azzori il giorno 4 giorno della festa messa solenne e omelia del padre provinciale il giorno successivo il 5 ottobre ricorrevano i 15 anni della beatificazione di franicola da gesturi nell'occasione hanno avuto luogo diverse iniziative ne ricordiamo tre nel pomeriggio la conferenza di monsignor professor tonino cavizzoso sulla chiesa cagliaritana negli anni di franicola la messa vespertina è stata invece celebrata da padre carlo da milano postulatore generale dell'ordine capuccino che ha tenuto un'omelia magistrale incentrata sulla figura del beato e sull'attesa canonizzazione infine un concerto musicale per concludere degnamente la bella giornata il nostro tg è terminato e ci congediamo da voi col saluto francescano di pace e bene grazie a tutti grazie a tutti